realizzare NFT gratis e caricarli su OpenSea direttamente dal vostro cellulare. Prima di farvi vedere come, non dimenticate di lasciare like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video inerenti a questo mondo. Entriamo nel vivo del tutorial e vi faccio vedere che applicazioni vi servono per andare avanti. Innanzitutto dovete scaricare Metamask, il portafoglio di criptovalute tra i più conosciuti e sicuramente il più utilizzato in questo ambito. Dopo Metamask vi serve anche OpenSea, ovvero l'applicazione mobile in questo caso di OpenSea, che dovrete scaricare e che vi permetterà di caricare gli NFT direttamente dal vostro telefono. Adesso vi servono alcune applicazioni di grafica. In questo caso noi utilizzeremo Medibang, che è il programma con il quale mi sono trovato meglio, soprattutto perché permette di organizzare in layer tutto quello che andremo a creare, un po' come Photoshop sul PC. Per questi motivi io utilizzerò Medibang, ma ciò non toglie che potrete utilizzare anche altri programmi di grafica come Photoshop, Canva o Sketchbook. Anche questo permette un'organizzazione in livelli, ma io utilizzerò Medibang perché è presente anche su Android, mentre Sketchbook non lo è. Io ci tengo a specificare che sto utilizzando il tablet solamente per utilizzare l'Apple Pencil, ma comunque il tutorial vale per qualsiasi dispositivo mobile. Volendo all'inizio possiamo seguire anche il tutorial che ci dà questa applicazione, ma per ora io l'ho semplicemente schippato, semplicemente perché già lo conosco. Durante l'utilizzo di questa applicazione potrebbero apparire pop-up che ci chiedono di passare alla versione a pagamento, ma io vi dico che comunque ai fini del video non è necessario perché questa versione a pagamento andrà semplicemente a rimuovere le pubblicità e quindi non aggiunge nessuna funzione che a noi potrebbe servire. Per iniziare a creare il vostro NFT andate su New Canvas e scegliete Nuova area di disegno. Qui possiamo scegliere la grandezza del nostro NFT. Per la mia collezione sul computer io ho usato la grandezza di 3000 pixel per 3000 pixel, però in questo caso visto che siamo sul telefono e soprattutto visto che questo è un tutorial e non voglio utilizzare troppo spazio di memoria, utilizzerò una grandezza di 500 pixel per 500 pixel. La risoluzione in DPI io lascerei 350 che è quella preimpostata dall'applicazione e poi cliccare semplicemente su Fine per iniziare a creare il disegno. Qui l'applicazione ci chiede di poter utilizzare il nostro Bluetooth, ma a noi non serve a niente quindi io cliccherò Non consentire. Una volta entrati in questa schermata di default troveremo il pennello. Possiamo aumentare o diminuire la larghezza del pennello e con questo iniziare a disegnare. Cliccando su quest'icona con i livelli possiamo vedere anche tutti i livelli che abbiamo creato. Cliccando sul più ne possiamo creare altri e scorrendo una volta cliccato un layer lo possiamo eliminare. E questo è utile per creare più background, più attributi, ma in generale più elementi grafici. Per creare dei background monocromatici basterà qui sulla sinistra scegliere un colore, magari anche la sua intensità, poi andare sullo strumento del secchiello e cliccare la nostra area di lavoro. Una volta creato in questo caso il background, ma in generale qualsiasi attributo, cliccate qui sull'icona dei tre layer e cliccando sul polsante impostazioni potrete anche rinominare il nome del layer. Se vi servono strumenti specifici vi consiglio di andare a cercare su internet qualche guida, ma essendo che siamo nel telefono ovviamente io farò una guida semplificata, perché altrimenti si potrebbe utilizzare tranquillamente il pc. Qui sopra cliccando sull'icona del quadrato è possibile scegliere ed utilizzare delle forme già preimpostate. Qui appunto l'icona di default è il quadrato, ma se poi cliccaste, non lo so, su ellisse, l'icona di default diventerebbe l'ellisse. Comunque l'importante è sapere che il pulsante si trova lì. Ogni volta che andate ad aggiungere qualcosa che non c'entra con il layer corrente, ricordate di creare un nuovo layer. Questo appunto per separare i vari attributi. Se magari volete delle forme meno tondeggianti, come in questo caso vedete che il quadrato ha gli angoli tondi, cliccate su quest'altra icona per poter fare un quadrato con gli angoli spigolosi. Dopo solamente due o tre minuti che ho passato sull'applicazione, questo è il bellissimo NFT che ho realizzato. E non provate a dire che non è vero. Ora, per salvarlo, basterà cliccare sulle tre lineette in alto a sinistra, andare su Export PNG or JPEG Files e scegliere PNG o JPEG. In realtà non cambia niente, ma io scelgo PNG. E visto che non l'ho fatto prima, devo permettere a Medibang di aggiungere foto nella mia galleria. Adesso, semplicemente per comodità, sono passato al telefono, perché qui ho già Metamask e OpenSea installati e sincronizzati. Semplicemente, una volta scaricato Metamask, dovete entrare e fare l'accesso con il vostro wallet. Una volta effettuato l'accesso, aprite anche OpenSea, andate su Profile e qui accedete con il vostro account di Metamask. Io ovviamente ora l'ho già fatto, ma farlo è molto semplice. Basterà cliccare sul pulsante di connessione con Metamask. Questo è solamente per comodità, per potervi poi muovere semplicemente su OpenSea tramite telefono. Ma in realtà da qui non si possono caricare gli NFT, quindi dovete tornare su Metamask, cliccare sulle tre lineette in alto a sinistra, andare su Browser, aggiungere una nuova schermata e qui digitare OpenSea. Una volta arrivati su questa schermata, scegliamo OpenSea.io. Mi raccomando, state sempre attenti che l'URL sia quella giusta. Cliccare sulle tre lineette in alto a destra, andare su Account, Profile, e ovviamente sarà già loggato perché stiamo facendo l'accesso direttamente dall'applicazione di Metamask. Adesso andiamo sempre sulle tre lineette, su Account e My Collections. Qui cliamo Create a Collection. Ovviamente dobbiamo firmare questa transazione e una volta firmata dovremmo riempire tutti questi campi. Io per i fini del video riempirò solamente quelli che sono richiesti per la creazione di una collezione. Ovviamente voi dovete riempirli tutti per creare una collezione quantomeno più professionale. Quindi inserisco l'immagine che abbiamo creato come logo della collezione, scendo qui sotto e do il nome Prova YouTube alla collezione, salto tutti questi campi che non sono richiesti ma che voi dovreste compilare, e qui sotto in Blockchain scelgo Polygon. Questo perché quando si creano NFT direttamente da OpenSea, Polygon permette di non pagare nessuna commissione. Adesso varo su Create, e quando apparirà questo messaggio in basso Created, la collezione sarà creata. Adesso per aggiungere un NFT a questa collezione, clicchiamo su Add Item, ci apparirà questa schermata, clicchiamo in questo grande riquadro, scegliamo Photo Library o Choose File in base a dove abbiamo salvato la nostra immagine, e poi la inseriamo all'interno. Scegliamo anche qui un nome che è obbligatorio, e voi selezionate anche tutti questi altri campi, che però per me sono opzionali e salterò ai fini del video. Qui sotto in Proprietà, cliccate su Più e ne potete aggiungere tante quante sono le proprietà che avete creato nei layer. In questo caso io ho inserito solamente lo sfondo, la faccia e i vestiti. Clicco su Save, scendo di nuovo qui sotto, e vado su Create. Verifico di non essere un robot, attualmente OpenSea sta richiedendo molte più verifiche di quanto faceva prima, e una volta che avrà verificato che noi non siamo dei robot, apparirà questa schermata con scritto che abbiamo creato l'NFT. Clicchiamo sulla X e possiamo vedere effettivamente che questo NFT è stato creato nella nostra collezione, ovvero Prova YouTube, con il nome che noi abbiamo deciso di dargli, in questo caso 1, e scendendo qui sotto con tutte le proprietà che abbiamo deciso di attribuirgli. Cliccando su Details potremo anche vedere che questo è un token con lo standard ERC1155, a differenza dell'ERC721 che invece ci permette di caricare NFT tramite Smart Contract proprietario, e che vi spiego in questo video che vi lascio qui sopra nelle schede e sotto in descrizione. Ovviamente questa è la creazione di un singolo NFT, ma per crearne più di uno basta seguire più volte la stessa procedura. Questo video molto richiesto termina qui. Se avete qualsiasi domanda fatemela nei commenti, e lasciate like, iscrivetevi al canale, ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e alla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti